Una grossa frana si è staccata questa mattina alle 9.30 dal versante che domina la strada provinciale 49 bis che collega la frazione di Colarete con Valgoglio, di fatto isolando il paese dell'Alta Valle Seriana. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, nonostante una ditta stesse eseguendo dei lavori di adeguamento proprio del tornante interessato dalla frana. Adiacente a dove si è staccata questa frana stavano facendo dei lavori, una ditta per la provincia di Bergamo per adeguamento di questo tornante. Hanno sentito i primi staccamenti quindi sono riusciti a mettersi in sicurezza dopodiché è scesa e quindi ha interessato tutta la sede stradale, stiamo parlando della SP 49 bis che dalla frazione di Colarete raggiunge l'abitato di Valgoglio. Oltre 200 metri cubi di materiale è sceso. Non è dunque possibile raggiungere l'abitato di Valgoglio con i mezzi mentre è possibile a piedi attraverso una mulattiera. Valgoglio che ricordo ha circa 180 famiglie con una popolazione di 380 abitanti. Un'ipotesi viabilistica alternativa si stava realizzando proprio in questo periodo perciò il Comune con i tecnici e i geologi cercheranno di accelerare i tempi per realizzare una soluzione alternativa a questa situazione di disagio. Recentemente stavamo proprio predisponendo un collegamento che da Colarete raggiunge la località di Aviasco proprio come percorso turistico ma soprattutto come strada alternativa anche a questa strada qui. Fortunatamente questo percorso è tra virgolette abbastanza tracciato, non è ancora stato concluso. Adesso vogliamo vedere se in questi giorni riusciamo a sistemarlo in questi due o tre giorni al meglio affinché si possa magari invitare chi volesse del Comune di Valgoglio a portare le macchine nella frazione di Colarete. Quindi non lasciarla prendendo a transito ma consentire perlomeno di portare le macchine e lasciare invece questa viabilità alternativa finché non sarà sistemata definitivamente a disposizione per i mezzi soccorsi, i carabinieri, Croce Rossa e quant'altro. Smottamento nella tarda serata di lunedì 25 aprile anche in territorio di Gandino lungo la strada montana di Valle Piana. Alcuni metri cubi di materiale hanno bloccato la strada tra la chiesa di Santa Maria degli Angeli e la località Boada Bassa. La strada è stata chiusa con un'ordinanza urgente che varrà fino a fine lavori di messa in sicurezza.